signori buongiorno e bentornati sul canale master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e siamo al secondo appuntamento con questa serie speciale sulle varie culture che si sono sviluppate e caratterizzano ancora oggi il gioco di ruolo nello scorso video abbiamo fatto un'introduzione generale nel caso non l'abbiate vista la lascio quassù andata a recuperare perché con questa settimana cominciamo a fare le cose in maniera sistematica quindi cominciamo a espandere quei concetti e vedere nel dettaglio quali sono queste culture e questa settimana andiamo proprio nel vivo dell'argomento cominciando a presentare le prime due culture di cui andremo a parlare che hanno delle similità tra i loro ma anche delle profonde differenze nonostante le quali vengono spesso confuse o l'una con l'altra o c'è la tendenza ad accorparle come se fossero un unico unicum strutturale quando invece si tratta di due aspetti del gioco decisamente diversi tra i loro il titolo del video l'avete visto questa settimana andiamo a parlare della cultura classica e della sua reinterpretazione moderna ovvero sia lo sr e immagino già che ci sia qualcuno che adesso sta guardando lo schermo confuso pensando che sì ma lo sr non è il modo classico in cui si gioca di ruolo no sono due cose diverse ma andiamo con ordine quando il gioco di ruolo ha proprio cominciato a diffondersi originariamente nei circoli di wargamer del wisconsin quella che era la prima edizione idnd anche se a voler essere corretti dovremmo dire la prima versione della prima edizione idnd quello che effettivamente i giocatori avevano in mano era un insieme di regole abbastanza acerbo che doveva servire a fare da ponte da una normale esperienza di gioco strategico a un'esperienza che incorporasse più elementi di storytelling non si trattava più di di schierare due eserciti uno davanti all'altro e il giocatore più bravo si portava a casa la vittoria ma di preparare degli scenari in cui eroi avrebbero dovuto affrontare delle sfide e grazie a queste sfide aumentare le loro capacità e quindi poter affrontare sfide sempre più potenti questo è un elemento che grosso modo sopravvive ancora oggi in moltissimi giochi di ruolo ne abbiamo già parlato in altri video ma per quanto riguarda all'epoca non c'era molto più spiegazione di questa e non c'era un'idea più complessa generalizzata di che cosa ci fosse nel gioco di ruolo oltre questo quindi ogni gruppo di giocatore di ruolo si approcciava al suo gioco in una maniera unica secondo quello che un po' avevano sentito dire dagli altri e un po' avevano personalmente sviluppato in pratica giocavano nella maniera che per loro aveva più senso quella che possiamo definire la protocultura del gioco di ruolo continua a diffondersi negli anni successivi attraverso california minnesota e linois queste se volete sono le terre originali dove nacque il gioco di ruolo e in cui la comunità che si stava espandendo cominciava a riunirsi in piccole convention locali discutere ai tavoli ma il gioco continuava a essere per la maggior parte qualcosa di privato che dipendeva esclusivamente dalle volontà del singolo gruppo che ci giocava all'epoca non c'era nessuna coerenza con quello che veniva fatto ai tavoli c'erano gruppi più conservatori che vedevano il gioco di ruolo come una versione del wargame con scenari più complessi pensati per un gioco collaborativo invece che confrontativo gruppi che è totalmente al contrario sembravano più delle specie di workshop di teatro canovaccio teatro improvvisato gente che faceva scrittura collaborativa dei racconti con l'ausilio di miniature cose gonzo strampalate pensate per creare scenari picareschi destinati più a far ridere che a raccontare effettivamente qualcosa di coerente e tutto quello che ci può passare in mezzo purtroppo per noi però questa protocultura è andata quasi totalmente perduta rimangono poche testimonianze magari qualcuno che abita negli scosti degli stati uniti ha ancora insonfitta la mappa del dungeon del nonno e ci sono dei giocatori della prima generazione in assoluto a cui si possono fare domande ma stiamo parlando dei racconti vecchi di 70 anni di persone che adesso se va bene di anni ne hanno 90 quindi esiste ancora una sorta di tradizione orale però ci sono poche testimonianze scritte concrete e quelle poche raccontano appunto una storia di totale incoerenza di quello che succedeva se questa protocultura è andata perduta però questo non vale per tutto quello che è arrivato dopo infatti da qui la storia diventa più interessante per noi questa totale mancanza di coerenza nel modo in cui la gente giocava però stava causando dei veri e propri premi materiali alla tsr la casa che pubblicava dan jones and dragon all'epoca ancora sotto gary gygax perché dato che non c'era un unico modo per giocare e la ditta stessa non sapeva cosa facesse la gente col suo gioco diventava estremamente difficile creare un piano editoriale per soddisfare le richieste dei giocatori e contemporaneamente trovare un modo per marchettizzare il materiale che già avevano in maniera efficace già dal 1977 gygax stesso ha cercato di mettersi una pezza con vari interventi pubblici e pubblicando articoli e interviste su riviste di settore che all'epoca erano ancora riviste per wargamer che avevano cominciato a trattare questa nuova strana forma di gioco strategico che era il gioco di ruolo quello che gygax aveva cercato di imporre come metodo corretto di giocare a dnd il metodo gigaxiano è proprio quello che noi oggi chiamiamo la corrente classica del gioco di ruolo cioè un gioco in cui il cardine è quello di affrontare sfide con eroi che partono da personaggi male inarnese che diventano lentamente ma progressivamente sempre più potenti appunto per poter affrontare sfide più complesse più difficili progressivamente arriveranno ad accumulare potere ad avere un loro regno assieme al party ci sono anche dei gregari e dei png che una volta arrivati a livelli più alti diventano anche vere e proprie armate e quindi c'è un ritorno a quello che era il combattimento strategico originale di esercito contro esercito se di quello che succedeva prima in realtà è andato tutto perduto di questo noi possiamo avere una testimonianza perché la tsr nelle sue linee editoriali cominciò a imporre questa visione cominciarono non solo a uscire gli interventi di gai gax sulle riviste che possiamo ancora andare a leggere ma ci furono anche l'introduzione non solo degli scenari dei moduli d'avventura ma nelle varie edizioni diciamo nelle varie ristampe e correzioni della prima edizione cominciarono a apparire anche testi in cui veniva spiegato al master ai giocatori cosa si presupponeva loro dovessero fare al gioco di ruolo quindi questo può essere effettivamente anche a distanza di tempo studiato oggettivamente identificato una particolare enfasi per esempio veniva data al fair play sottolineando come le sfide che i giocatori dovevano affrontare dovevano essere calibrate per essere difficili ma non impossibili doveva esserci sempre la possibilità che i giocatori potessero ragionevolmente vincere e potessero ragionevolmente predire quale fosse la difficoltà dell'incontro che sarebbero andati ad affrontare nella prima edizione di dnd per esempio il livello dei mostri era legato fisicamente al livello del dungeon in cui si trovavano quindi i giocatori potevano regolare la difficoltà della loro missione semplicemente salendo scendendo le scale del dungeon che stavano esplorando stiamo comunque parlando è una cultura che si è evoluta al wargame il concetto di gioco bilanciato era qualcosa di intrinseco e fondamentale nel modo in cui loro ragionavano il gioco lasciava anche molto spazio alle elementi logistici di quella che era la vita del personaggio dalle provviste agli equipaggiamenti ma più andando avanti proprio l'economia la gestione delle risorse del regno da questo punto di vista il gioco era molto più orientato verso la simulazione della vita immaginaria di questi eroi fantasy più che al racconto di una storia interessante se poi gli eventi del gioco portavano anche a un buon racconto meglio ma non era quello lo scopo ovviamente col passare degli anni di andy cominciò ad avere i suoi concorrenti cominciano ad uscire altri giochi di ruolo che si diffusero all'interno della comunità dei giochi di ruolo in cui altri giocatori provano di ella loro su quello che stava succedendo la comunità quindi si espanse tutti questi giochi però seguivano grosso modo il concetto generale della cultura classica appunto perché quello era il modo in cui all'epoca si giocava è il modo in cui l'azienda di riferimento stava orientando lo stile di gioco ovviamente però il gioco di ruolo avendo successo si stava diffondendo e si stava diffondendo anche al di fuori del circolo dei wargamer cominciando a richiamare gente che non aveva la mentalità da giocatore strategico ma era più che altro interessata genericamente al fantasy o alla fantascienza quindi aveva un approccio diverso al tavolo e il fatto che la comunità abbia incorporato anche gente con una visione diversa ha ovviamente portato a dei cambiamenti se proprio vogliamo trovare un punto di svolta probabilmente è il 1981 con l'uscita di the call of tulu che fu il primo gioco a proporre un approccio diverso e a far cominciare il declino della cultura classica ma ne parleremo probabilmente tra qualche settimana quando andremo a parlare della cultura tradizionale per quanto riguarda noi e questo video diciamo che con l'arrivo degli anni 80 la cultura classica cominciò a decadere a diventare sempre più minoritaria in quella che è la grande famiglia del gioco e ruolo in generale e diciamo che la sua fine definitiva sia con l'advance dnd che cambiò radicalmente il modo in cui la tsr stessa si approcciava al gioco che per noi è quella che chiamiamo la seconda edizione di dnd all'epoca era la nuova versione o dal loro punto di vista la sesta versione del regolamento se questo ha concluso il grande periodo di dominanza dello stile classico la sua storia non era del tutto esaurita perché a 20 anni di distanza durante la grande rivoluzione del gioco di ruolo degli anni 2000 alcuni di suoi elementi vennero ripresi per creare una nuova scuola di pensiero sul gioco all'epoca avevano cominciato a nascere vari movimenti di retro gaming revival nostalgia varia sia fatti da giocatori della generazione precedenti sia da nuovi genocatori interessati però alla storia del gioco di ruolo tutti questi movimenti andarono poi a fondersi in quello che noi adesso chiamiamo l'old school renaissance ovvero l'osr anche di questo avevamo parlato in un vecchio video ve lo lascio linkato qua in alto se dovete andarlo a recuperare l'osr però non è in diretta continuità con la scuola classica è qualcosa che è stato ripreso più avanti e anche delle differenze stilistiche notevoli prima fra tutte è che l'osr ha una sua dichiarazione precisa degli intenti esistono varie versioni del manifesto dell'osr ma probabilmente quella più famosa e universalmente accettata sono i principi apocrifa del 2018 in cui viene chiaramente stabilito che cosa voglia dire seguire la cultura sr quale sia nello specifico lo stile sr e quale non lo sia cosa che ovviamente nello stile classico era impensabile perché era molto più anarchico come approccio altra importante differenza veramente sostanziale che l'osr non ha alcuna intenzione di presentare un approccio bilanciato agli incontri o l'introduzione di fair play anzi nell'osr le sfide sono sempre pensate per essere estremamente difficili e essere superate non tanto con le abilità del personaggio ma con l'astuzia dei giocatori e se possibile essere del tutto saltate nella migliore delle ipotesi un gruppo di personaggi in avventura sr non combatte mai e arriva direttamente al tesoro se i primi giochi di ruolo avevano dei regolamenti con grossi buchi semplicemente dati dall'inesperienza dei designer e dal fatto che non fosse appunto chiaro che cosa la gente volesse poi andare a fare ma non era considerato qualcosa di positivo anzi la tsr cercava di produrre continuamente nuove regole per coprire i buchi di regolamento nell'osr questa è una cosa dichiaratamente voluta i regolamenti osr sono minimali coprono le situazioni più generiche in maniera vaga e c'è un enfasi sul fatto che tutto quello che non è regolamentato nel gioco debba essere deciso dall'arbitrio del master uno delle proprio dei capisaldi dell'osr è il ruling not rules noi lo potremmo definire come decisioni e non regole proprio il concetto che il manuale non deve contenere tutte le regole deve essere il master a decidere come risolvere le situazioni man mano che compaiono in gioco questo ovviamente porta a un gioco molto più frenetico e orientato all'azione in cui i personaggi devono farsi furbi cercare di dribblare i pericoli e cercare di mettere le mani sul tesoro il più velocemente possibile che praticamente antitetico alla lunga e metodica processione che era quello dello stile classico gigaxiano e ovviamente l'osr appunto una cultura contemporanea e ancora in realtà è decisamente attiva escono continuamente nuovi regolamenti al suo interno a dozzine di varie sottoscuole sottostili di pensiero legati a particolari giochi a particolari stili anche se bisogna dire che lo stile classico non è qualcosa che sia morto e dimenticato anzi in molti casi è stato recuperato e per quanto sia meno diffuso rispetto all'osr molti dei suoi canoni sono poi entrati a diventare preponteranti in altri stili soprattutto lo stile tradizionale quindi diciamo che il proto gioco di ruolo oramai è morto ma le due culture che possono vantare una discendenza da questo e quella classica in maniera diretta e l'osr in maniera simbolica continuano tutt'oggi a prosperare quindi sì lo stile classico e lo stile osr non sono la stessa cosa anzi rappresentano due tendenze anche decisamente opposte all'interno del grande mondo il gioco di ruolo diciamo che per questo video è tutto è già durato tantissimo così e fidatevi ho dovuto semplificare e tagliare molte cose se no saremmo stati qui letteralmente delle ore prima di chiudere però vorrei fare una specificazione in questo video io ho inquadrato il tutto da un punto di vista storico e per forza di cose ho parlato della situazione originale negli stati uniti perché è lì che la storia è iniziata in italia però il gioco di ruolo è arrivato molto dopo quindi se sparlate con la prima generazione di giocatori in italia probabilmente vi racconteranno di un ambiente decisamente diverso ed è anche normale perché da noi il gioco di ruolo ha avuto uno sviluppo appunto differente per via dello scarto temporale per questo motivo mi sono organizzato e nelle prossime settimane andremo a parlare con il primo ospite per questa rubrica mirco pelliccioli di mp edizioni che è stato all'epoca uno dei giocatori della scuola di bologna che è stato uno dei grandi centri di sviluppo e diffusione del gioco di ruolo in italia alle origini per parlare con lui proprio di com'era la situazione da noi agli albori della storia del gioco di ruolo fino ad allora come sempre adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se voi appartenete a una di queste due culture del gioco di ruolo e cosa vi ha fatto preferire l'una all'altra come sempre se avete domande e dubbi o perplessità scrivete anche quelle qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete ho chiuso a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco dal gruppo di telegram dove metto io le notifiche manualmente e dove trovate anche il resto della community che propone tra l'altro idee come quelle di questa serie per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video